Ciao a tutti ragazzi sono Francia50 e oggi siamo qui in un nuovo video di Clash Royale Ragazzi siamo tornati, oggi siamo sul computer Che non l'avevo mai fatto sul computer da quando l'ho preso E oggi andremo ad effettuare un attacco con solo pozioni ragazzi Solo pozioni E però prima si apre i baule Dato che abbiamo un baule gigante anche Spiega di trovare un epica Già subito Così a caso l'epica esce dal nulla L'epica è E ovviamente qua niente di importante Apriamo la baule della corona Oro bello è molto importante Spiritelli Sgherri Scarica E mini pecca Subito Il baullone magico Tre carte solo ho Perché solo tre carte mi dà? Un'epica E? Che merda di carte Su Uca Adesso Andremo a fare Il L'attacco Con Questa Questo deck Fatto solo di pozioni Allora diciamo così E gli auguriamo buona fortuna Allora Noi ci dovremo Sia difendere Che distruggergli una torre Capito? Quindi sia una torre Che difenderci Allora Lui inizia così E noi iniziamo con E noi iniziamo con il Di difenderci Cazzo cazzo Ok Un po' di male ce l'ha fatto Un bel po' di male ce l'ha fatto Ragazzi Qua La storia Diventa dura Allora La veleno ci serve Molto utile E adesso C'è un bel po' di male Vabbè Cos'è Del bagaglio Ok Intanto Lì giù Stop E Non so se si può Levare La minchia Tutto Pomp Se valala Quanto togli Togli sessanta Ogni colpo Poco Eh però adesso arrivano Le bestioni Vanno molto Ragazzi è veramente Una strada Stavo perdendo male Eh Ha sprecato la genova Vai subito Sprechiamo Sprechiamo tutto Finchè mi siamo Sprechiamo la genova Per delle mergate Anche si sa che Farò tre stelle Cioè lui Farò tre stelle Allora Eh Abbiamo copiato il suo L'uomo uguale Stessa risata Lasciamola andare Lasciamola andare Grazie Dai facci fare una coroncina Rega Ti prego Ti prego Fottimi Giù male Il mondo Pum Madonna Ci sento andate al pelo Con la roba lì Ok Lui va ancora Rispecando Ricciare Riusciamo Abitare giù Una torre Senza che Io ci arrivo completamente Eh Vabbè pure Grazie Questo qua che Per una volta è utile Fottimi Fottimi Va Dai 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 Ti prego Fammi la distrugge Sì Ce l'abbiamo fatta Un per cento Vabbè Eh Siamo riusciti a distruggergli Una torre Wow Veramente wow Riusciamo a distruggergli Una torre Ok ragazzi Qua abbiamo finito La prima battaglia Io direi Subitamente Di iniziare La seconda Sempre Sperando Che Incontriamo Un livello Minore No No Il livello Minore Proprio Mai Buona fortuna Allora Puntiamo sempre A una torre E invece Se incontriamo Uno dei livelli Più basso Punteremo Alla torre centrale Ragazzi Torre centrale Non so se avete sentito Torre centrale Iniziamo subito male Così non sprechiamo Le nostre Risorse Appena arrivi a dieci Come spara la Ma che cazzo Il pecca Ma chi se l'incula Ma vai a cadere Vabbè Becca di merda Eh vabbè Questa è la mia Ara però Bella mossa Allora Corazzo Ti prego Difendi Razzo Vuoi arrivare Razzo Razzo Difendi Per favore Oh Grazie al cielo Ci siamo difesi Da un Pec Cune Eh anche Terri Abbiamo copiato La risata Oggi siamo Dei copiatori Di verifiche Eh Vai Ragazzi Guarda Mi fanno incazzare La gente Alpecca Uh bravo Spreca la roba Spreca Vai Mi fa cagare Allora Gli diamo Dottor Cosa Basta Tecca Se ne può andare Pure Io però Voglio fare Tre Una stella Secondo Lotto Il raggio Riusciamo a distruggere Tutto Sì Sì E vabbè E vabbè Muori Muori Cazzo Vai che il Pec ci fa poco Uh un solo danno Due 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 vabbè Vabbè Due E ancora di Pec ci va Ma questo qua è stupido Forte Basta Ci tirerei giù quella centrale Ma io Una stella La devo fare Prego Dissutito Dissutito No 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 Te l'avevo tirata giù Ma va Cagare Ma va Allora Ma va Fan Culo Ehm Ehm Vabbè ragazzi Qua però Cioè Non ce l'abbiamo fatta Però Adesso facciamo una partita seria Normale Ma di quelle potenti Perché così Recuperiamo tutti i trofei Cioè O almeno Una partita dei trofei Che abbiamo perso Questo qua E di fatto inizio io a farti Ho fatto 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 E iniziamo Pesante E non c'abbiamo delle belle carte Quindi Però Mi sia contento Ok Ho fatto Difendi Ok Non ci dovrebbe fare Troppo male In realtà Ci ha fatto Troppo male Un colpo Infatti Non avete Questo deck Lo consiglio A tutti Ragazzi Perché È veramente Una bomba Ma forte Qua Sono proprio Una merda E poi No Non sono Una bomba Scherzando E Oh Per tutto Mi ha infilato Adesso Mago Vegi Vai Fireball Fireball Il colpetto Va a cagare Però Come vedete È veramente Forte Sto deck È Una bomba letale Eh Voleva Eh Ok Andiamo Soprattutto Per un ruolo Lo aspettavo Vedete Ragazzi Veramente Una Letalità Perché Se noi Prepariamo Un gigante Da qua Sempre Dipendaci Noi 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 Molto Noi 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 Come sapete Ci mettiamo Se spiegiamo Noi Lo stico Noi 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 Ok Propariamo Nostra Se non c'hai da fireball Non c'è da essere per me Tutto sullo Ecco Dai Ma che fanno Vai Attacco pesante Ok Ok Non possiamo perdere Tutto questa Prego Non farci perdere Oddio Mangia pochissimo Noi Noi Dai 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 Hai visto Hai visto Fregati 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 Gesù Gesù Madonna Guarda Vabbè Abbiamo perso Questa parte Che solo Perché questo qua È forte E ha avuto Un culo Che Sì Sì Vabbè ragazzi Spero che questo video Di Clash Royale Vi sia piaciuto Lasciate un like Per favore Iscrivetevi al canale E noi ragazzi Ci vediamo Nel prossimo video Bene ragazzi Bé Grazie a tutti.